4 biglietti aerei online 480 euro con Mastercard Un noleggio auto online 203 euro con Mastercard 4 magliette online 120 euro con Mastercard Ritrovarsi tutti insieme offline non ha prezzo Ci sono cose che non si possono comprare, per tutto il resto c'è Mastercard Il modo di pagare moderno, anche online Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!